L'ambiente e l'inquinamento Bambini, dovete sapere che dove vivete ci sono molte cose da osservare e da scoprire. La città con i suoi rumori, le strade e le case, le montagne, le coste bagnate dal mare, i fiumi, le fattorie, i campi, le praterie, le foreste. Tutto questo forma il vostro ambiente. Gli uomini hanno cambiato l'ambiente perché hanno coltivato i campi, costruito le strade, fabbriche e città. Spesso, però, facendo tutti questi cambiamenti, hanno danneggiato l'ambiente. Lo hanno inquinato. I detersivi, i scarichi delle fogne e delle fabbriche inquinano la terra e l'acqua. I fumi dei tubi di scappamento di tutte le auto che circolano sulle strade della terra insieme ai fumi delle ciminiere e delle fabbriche e dei sistemi di riscaldamento delle case causano l'inquinamento dell'aria. Ma, attenzione, l'acqua si beve, l'aria si respira, gli animali e le piante che vivono sulla terra ci nutrono. voila! me mi .